L'allarme è scattato alle 7.41. A quell'ora uno dei dipendenti della Street Roderspec, che ha in uso un alloggio al primo piano dell'edificio che ospita lo stabilimento, ha avvertito un forte odore di bruciato. Sceso al piano di sotto ha immediatamente compreso cosa stava accadendo ed ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i volontari di sopra Bolzano e successivamente i colleghi di Auna di sotto e del corpo permanente di Bolzano. In tutto 50 pompieri che si sono trovati innanzi a una vera e propria barriera di fumo e fuoco. Noi siamo arrivati qua, siamo venuti qua tutto pieno di fumo, abbiamo trovato un'altra porta dove siamo entrati. Quando siete arrivati le fiamme erano molto alte? Sì, nel locale sì, fuori no, solo nel locale. Il rogo si è sviluppato nel locale nel quale erano collocati i macchinari che regolano i trattamenti di affumicatura delle baffe di spec. Fiamme molto alte la cui origine è già stata individuata. Sì, come ha detto lei, con un'alta probabilità, un guasso tecnico, esatto. Dopo circa un'ora di lavoro effettuato con addosso gli autorespiratori, i vigili del fuoco hanno dichiarato il cessato allarme. In paesi stamani l'odore di bruciato era avvertibile anche a centinaia di metri di distanza dal luogo dell'incendio, ma a quanto pare nell'aria non si sarebbero sprigionate sostanze tossiche. Il rischio non c'è, in quanto il incendio è abbastanza limitato, i vigili del fuoco della zona con noi abbiamo spento gli incendi un breve tempo. Il problema è più che altro che sono colpiti alimentari e adesso bisogna chiarire con l'azienda sanitaria quante baffe sono colpite. I danni sono ingenti? Sì, sono ingenti.